Secondo le statistiche di youtube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidesti di iscriverti ora. Grazie! Che fai! Edi! 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 Dice che, tutto bene? Dice che! Dicero che? Tu non posso, non! No come se mi fai dal questo? Non voglio essere usciti. Dicero... Grazie a tutti. 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 ... ... ... il carro non si va a morire stiamo bene che? si desapareciò puto puto madre loco